I motivi sono contestuali. In nome del popolo italiano, il Tribunale, visto l'articolo 533 del codice di procedura penale, dichiara Alberico Gambino colpevole del reato a lui ascritto al capo A, limitatamente all'assunzione di Fisichella, e al reato di violenza privata così riqualificato il reato a lui ascritto al capo B della rubrica del decreto di giudizio immediato dell'11.1.2012, addinti dalla continuazione, e riconosciute le attenuanti benediche, esclusa per entrambi i reati, l'aggravante contestata ai sensi dell'articolo 7 della legge 203 del 91 lo condanna alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione. Visto l'articolo 533 del codice di procedura penale, dichiara Giuseppe Santilli colpevole del reato a lui ascritto al capo A della rubrica del decreto che dispone il giudizio dell'11.1.2012, limitatamente all'assunzione del Fisichella, e riconosciute le attenuanti generiche, esclusa l'aggravante contestata ai sensi dell'articolo 7 della legge 203 del 91, lo condanna alla pena di due anni e otto mesi di reclusione. Visto l'articolo 535 del codice di procedura penale, condanna Alberico Gambino e Giuseppe Santilli al pagamento ciascuno per la propria parte delle spese processuali e di custodia cautelare. Visti gli articoli 317 bis e 28 del codice penale, dichiara Alberico Gambino e Giuseppe Santilli interdetti per un anno dai pubblici uffici. Visto l'articolo 538 del codice di procedura penale, condanna Alberico Gambino e Giuseppe Santilli al risarcimento insolito dei danni morali da loro cagionati alla costituita parte civile americo-panico, nato a Nocera interiore il 2.6.1971, che liquida equitativamente in 3.000 euro da destarsi al fondo di beneficenza in memoria del dottor Nicola Cacotti e del danno non patrimoniale cagionato alla costituita parte civile comune di Pagani, che liquida equitativamente in 5.000 euro. Visto l'articolo 541 del codice di procedura penale, condanna Alberico Gambino e Giuseppe Santilli insolito alla rifusione delle spese di costituzione in giudizio delle parti civili, americo-panico e comune di Pagani, che liquida in 4.500 euro oltre accessori di legge se dovuti in favore di ciascuna delle predette parti civili. Visto l'articolo 530 del codice di procedura penale, assolve Alberico Gambino dai reati ascrittili al capo A della rubrica del decreto di giudizio immediato dell'11.1.2012, immediatamente agli episodi diversi dall'assunzione del fisichella, nonché dai reati ascrittili ai capi C, D, E, F e G della rubrica del medesimo decreto di giudizio immediato perché i fatti non sussistono. Giuseppe Santilli dai reati ascrittili al capo A della rubrica del decreto che dispone il giudizio dell'11.1.2012, limitatamente agli episodi diversi dall'assunzione del fisichella, perché i fatti non sussistono. Dal reato ascrittili al capo B della rubrica del medesimo decreto per non aver commesso il fatto, nonché da tutti gli altri reati ascrittili col medesimo decreto perché i fatti non sussistono. Francesco Marrazzo, da tutti i reati ascrittili col decreto di giudizio immediato dell'11.1.2012 perché i fatti non sussistono. Giovanni Barone, Antonio D'Auria Petrosino, Michele D'Auria Petrosino, Giovanni De Palma, Antonio Fisichella, Giovanni Tandocchi Elettrico e Massimo Quaretino, dei reati loro ascritti al capo A della rubrica del decreto che dispone il giudizio dell'11.1.2012, limitatamente all'assunzione del fisichella, per non aver commesso il fatto, per tutti gli altri episodi del medesimo capo perché i fatti non sussistono. Dal reato loro ascritto al capo B della rubrica del medesimo decreto per non aver commesso il fatto, e dagli altri reati loro ascritti col medesimo decreto perché i fatti non sussistono. Raffaele Trapani, da tutti i reati a lui ascritto col decreto che dispone il giudizio dell'11.1.2012 perché i fatti non sussistono. Visto l'articolo 300,1 del codice di procedura penale, dichiara istinta la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata con ordinanza di questo tribunale del 33.1.2012 a Giovanni Pandolfi Elettrico, Giovanni De Palma, Michele D'Auria Petrosino, Antonio Fisichella, Giovanni Barone e Massimo Guaragino e ad Antonio D'Auria Petrosino con ordinanza di questo tribunale dell'11.7.2012 ed ordina l'immediata liberazione di tutti i credenti imputati se non detenuti per altra causa. I motivi sono contestuali e a disposizione delle parti non credo che possiamo leggerli, sono 150 pagine e oltre.